XS presenta il suo primo catamarano full electric. La propulsione elettrica è frutto della collaborazione tra Torchido e ZF, due aziende con una grande esperienza nei rispettivi settori. XS 15 è lungo 14 metri e 76 centimetri ed è largo 8 metri e 3 centimetri. Il suo dislocamento a secco è di 19 tonnellate. Nella categoria A può trasportare fino a 14 persone, nella categoria D sino a 30 persone. È uno dei modelli della gamma XS che si sta espandendo e presto avrà ben 5 esemplari da 11 a 15 metri. È grande l'esperienza di Torchido nella propulsione elettrica. Pensate che dal 2005 a oggi oltre 100.000 armatori hanno scelto un motore elettrico Torchido. La gamma prevede propulsioni elettriche ed ibride da 500 watt sino a 100 kilowatt per imbarcazioni da diporto oppure da lavoro. Questo impianto si chiama Torchido Deep Blue 50 e impiega un motore elettrico trifase sincrono da 50 kilowatt a 3.000 giri minuto, alimentato in corrente continua a 350 volt. Ovviamente su XS 15 ce ne sono due, uno per ogni scafo. Sopra il motore elettrico, sotto il Sail Drive di ZF montato su una sospensione pneumatica è dotato di elica con pale fisse che durante la navigazione a vela, ruotando, trascinano il motore elettrico e lo fanno funzionare da alternatore per ricaricare le batterie. Per quanto riguarda la parte elettrica, le batterie sono le stesse utilizzate da BMW sulle auto. per estendere il range di navigazione a bordo ci sono anche due generatori diesel da 20 kilowatt. La velocità massima di questo catamarano con la propulsione elettrica è di 10 nodi. Per quanto riguarda la prima cosa è stato fatto, la vostra clientela è stata un buon prestigio per quattro i buoni. Torquido ha portato un'esperienza di un'esperienza di elettrico e, con la nostra esperienza di un'esperienza di 250 anni, incontrata in questo caso, questo ha portato un prodotto molto successivo, cosa che possiamo vedere e vedere a questo pubblico a l'evento in Cannes. La partnership inizia a l'inizio in 2020 e già da l'inizio c'era la possibilità di capire Covid-19. Abbiamo capito, i nostri compagni, i gestionamenti e il risultato è fantastico. Penso che questo progetto fits perfectly in l'operazione della strategia di ZF, dove abbiamo l'ultimo della strategia di elettrificare tutto in fine, non solo per le caratteristiche, o 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 le caratteristiche, E questo è magari un nico in fine, ma noi usiamo l'esperienza che abbiamo dentro del gruppo e cerchiamo di fare un prodotto relativo e servire diversi mercati. Lo che voglio spiegare in questo progetto è la collaborazione molto professionale tra queste due caratteristiche. E' davvero una situazione di win-win per i due caratteristiche, e tutti avevano, da l'inizio, sono molto concentrati su loro parte, e per questo motivo, questo è l'ultimo motivo, il prodotto è un successo, e che possiamo toccare e sentire oggi. For Excess, questo è un grande step, e il primo step, di avere un sistema di propulsione di Torquido e ZDF, quindi questo è il primo step, ovviamente, e un step di molti, 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 di come. Ovviamente, il progetto è di sviluppare un'intervista con soluzioni, ovviamente, dipendendo sul progetto del volo, diversi modelli, torquido e equipamenti, ma questo è l'obgetto, di sviluppare questa soluzione all'intervista. Ma prima di arrivare, questo è un prototipo, ci vogliamo imparare, ci vogliamo testare, ci vogliamo assicurare che troviamo la migliore e la migliore configurazione, per tutti i nostri modelli. E questo primo Excess 15, con la Torquido e ZDF, serve come un laboratorio, come un prototipo, e lo facciamo con l'excess lab platform, dove interagiamo con i nostri partneri, Torquido, ZDF, e i nostri clienti, per definire la migliore offerta per il futuro. È più grande che l'excess brand, è davvero una strategia di gruppo Benetto per lavorare con soluzioni e leader come Torquido e ZDF, ovviamente il gruppo Benetto è un prodotto leader leader e so sono Torquido e ZDF in loro field, in loro leader, innovazione, e quindi è un mix naturalmente e un mix naturalmente per lavorare insieme. Ma quando parliamo di Excess, ciò che è incredibile è che in termini di filosofia, in termini di cultura, ci troviamo davvero un clic perfetto perché siamo raggiungi in spirito, perché, almeno, ci vogliamo essere cambiamenti, ci vogliamo innovare, ci vogliamo pensare inizialmente, ci vogliamo pensare e ci vogliamo sentire la stessa mentalità e ci vogliamo pensare e ci vogliamo pensare in Torquido e ZDF e inizialmente, quindi è un grande fit. Il purpose delle due compagni è di un'arge in cui siamo forti in, Torquido, con le trattate elettrici trattanti, con le batteri soluzioni, le trattature, e tutto, e, per l'altro, ZDF è un grande e più esperienza di trattare in order to support customers with their very different drivetrain needs, with a flexible portfolio over time, all electric, but with the variability on sail drive, shaft drive and whatever drivetrain solution you're looking at. Well, we are happy that XS, as a major catamaran brand, choose our D-Blue Hybrid system, which not only is a drive system, but really full power management system for electric power onboard. For the new product, the XS 15, which is a brand new innovation in that combination. On one hand, the new boat with a nice design of XS and on the other hand, this high technology, very flexible and very silent, energy saving and environmental friendly drivetrain and energy management solution from Tokido. Well, we supplied besides the electric drives with the ZF sail drives to get the power into the water, also the battery bank that stores the energy and supplies the drives, but also supplies energy to the onboard systems through a DC-AC converter. We have a charger onboard for shore power charging, but also to diesel gensets as a range extender in case you don't have sufficient energy from the other renewable sources. We can do hydro generation, having the propellers running while sailing, charging up the batteries. There's a solar array on the roof, which can charge the batteries. And of course, then the whole control system for the drive with the throttle lever, but also the display giving you all the information, not only about speed and direction, but also about the technical status of the components, the drives and the batteries. It's all supplied as an integrated system, our Deep Blue hybrid system from Tokido. Over the last years, we have supplied several of these Deep Blue hybrid systems to monohull and multihull sailing, but also first ferry projects that use the technology. So there's multiple installations already in the field, but of course, access with that new design and also the major market impetus they have, we are very happy to have them as a partner now here as well. To be continued... To be continued...